si ricomincia dunque il secondo tempo Sardana due Trissino tre Sardana Caravanti due a zero per i gol di Borsi e Fessa poi ci hanno pensato Rustè dal Monte Bertinato a cambiare per il momento il corso del match in pista per Sardana Francesco Rossi che ora ha sfiorato il gol numero 57 poi col numero 9 Sergio Fessa con numero 88 Francesco De Rinaldi con numero 11 Davide Borsi davanti a Simone Corona mentre in porta per il Trissino c'è Edi Nicoletti poi il numero 4 Carlo Bertinato il numero 8 che riceve in questo momento Maximiliano Rustè il numero 2 che è Alberto Greco e il numero 7 Emanuele Pasquale Grazie a tutti 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 Pasquale 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 Cambio è con Bertinato l'ottore del gol del 2 a 3 scivola Bertinato ruba la pallina Borsi va via Borsi c'è Rossi non è riuscito a servirlo Borsi Borsi questa mette in mezzo Rossi non riesce a bucare Nicoletti che neutralizza dall'altra parte Corona su Pasquale ecco Davide ecco Davide di Rinaldis Rossi si alza la pallina ma è bravo ancora una volta è di Nicoletti insiste Davide Borsi scarica l'indietro festa parata di Nicoletti ma è ora una fase infavorevole a Sardana tre minuti e mezzo della ripresa Sardana vuole il pareggio Borsi festa la parata ancora di Nicoletti insiste Sardana che non lascia respirare gli avversari Rossi scatta Rossi ancora Rossi prova a servire Borsi sette falli sette falli il trissino 4 Sardana è gol di Borsi 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 ha segnato Davide Borsi 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 al 3-31 il raddoppio il personale di Borsi che vale 3-3 3-3 di Borsi al 3-31 Borsi Borsi ancora Davide dietro Festa Festa la parata di Dalmonte di Nicoletti Festa ha colpito in avvertito Bertinato Greco lascia a Bertinato Pressing Rosso Nero fruttuoso con Borsi che recupera la pallina poi da Rossi a De Rinaldi ancora De Rinaldi Borsi Borsi va Davide e ruba la pallina ancora Festa c'è Borsi eccolo Davide la parata clamorosa e bellissima di Nicoletti poi Festa di nuovo da Borsi ancora Borsi chiama la pallina a Festa la perde grazie a questo bellissimo intervento di Greco o Ruster dietro la porta Ruster ancora c'è rigore no la punizione 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 non va altrissimo non riesce approfittare la pallina torna rosso nera quando mancano 19 minuti e 20 secondi alla fine del primo tempo della partita 3 a 3 punteggio quando si libera Borsi che cade a terra Bertinato tiro di Bertinato dice di no Corona De Rinaldi Borsi Borsi festa recupera Greco poi Dalmonte ancora ancora Dalmonte dietro Bertinato dalla grandissima distanza da dove aveva trovato il 2 a 3 ancora Bertinato insiste e tirissimo tiro di Bertinato De Rinaldi Rossi prova Rossi non riesce a trovare la porta ancora Rossi Rossi e De Rinaldi dietro per Sergione festa poi Davide Borsi attenzione a Dalmonte che va in contropiede bravissimo Corona Rossi viene fermato da Orustè poi è solo ma non aggancia Dalmonte ancora Orustè indiavolato dietro la porta cerca Greco ha provato il numero non c'è riuscito ancora Greco Orustè numero di Orustè fermato da Borsi giocati 8 minuti della ripresa Sardana e Tricio sono su un punteggio di 3 reti a 3 De Rinaldi dolce in mezzo ancora per De Rinaldi si è toccato Dalmonte recupera Bertinato si libera benissimo Greco ma sbaglia l'assist per Orustè poi dall'altra parte Nicoletti dice di no a De Rinaldi Borsi scarica su Dolce ancora Festa e Dolce poi De Rinaldi dietro ancora Festa c'è Greco su Festa Borsi si fa avanti Bertinato va via Greco ancora Bertinato a pressare Borsi cerca spazio Davide scarica su Festa ancora Festa e Borsi dalla grandissima distanza nulla da fare la pallina ha toccato l'arbitro Molli nulla di grave per Molli Borsi Borsi niente da fare inesimo tentativo poi dietro c'è l'infrazione rossonera Dal Monte Greco Oruste Bertinato ancora Rustè Bertinato Oruste cerca il rigore con un tuffo molto teatrale Borsi non ci cascano Balli Bertucci allora poi Dal Monte finge di avere preso una mazzata grave e invece si prende il blu sarà tiro libero per Sardana al nono minuto e 45 blu a Dal Monte adesso vediamo chi si incaricherà della punizione di prima ancora in pista i sanitari grazie 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 allora Sergio Festa contro Eddie Nicoletti tiri liberi tiri prima che sono nel tallone d'Achille di Sardana finora vediamo Festa contro Nicoletti e segna Festa è fantastico Sergio Festa ha fatto gol torna avanti Sardana Festa riporta avanti Sardana 2 a 0, 2 a 3, 4 a 3 Tensera Bertinato para Corona poi De Rinaldi spallo Borsi fallo non rilevato dagli arbitri poi Dolce non è riuscito al tappin dopo la parata di Nicoletti 14,45 di di sofferenza per Sardana attenzione ancora Orustè Corona allontana e lancia su De Rinaldi ma recupera Bertinato in avanti Orustè Emanuele Pasquale è rientrato De Rinaldi cerca Dolce non trova la porta Pasquale ancora Pasquale traversa fermo è la corona Greco Trissino indiavolato Pasquale è provato il numero Borse Sardana deve tenere fallo su Dolce è a quota falli mi sembra nove nove Trissino e cinque Sardana numero di Orustè altro tuffo altra corsa decimo fallo del Trissino e c'è un'altra punizione per Sardana al sette e trentadue anzi all'undici e trentadue decimo fallo Borsi contro Nicoletti Davide contro Nicoletti para Nicoletti poi ancora Davide niente Sardana sempre avanti con Borsi Sardana che ora è quattro a tre Borsi Rossi fermato nulla di fatto Borsi Borsi è scambiato con Dolce ancora Borsi prova il numero molto buona la chiusura di Pasquale ancora Borsi con Greco il fallo del Sardana del Rosso Nero Bertinato in mezzo Orustè il pareggio il pareggio di Orustè al dodici e trentadue quattro pari parità ancora dodici e ventotto da giocare quattro pari Rossi Rossi prova la girata trova Nicoletti Dolce Borsi Rossi rigore poi c'è anche l'espulsione per Mami Orustè Siamo al dodici e quarantotto ancora Borsi contro Nicoletti Borsi contro la di Nicoletti e gol di Davide Borsi 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 5 a 4 di Davide Sardana torna avanti 5 a 4 dodici minuti ancora lunghissima per portarla a casa sta partita attenzione alla transizione di Pasquale la parata di Corona Borsi non trova Dolce attenzione a Greco per Pasquale poi sbaglia l'appoggio a Bertinato prova dalla distanza Rossi Pesta Pesta scarica ancora Borsi brava Borsi viene fermato molto bene entrato anche in pista Alessandro Faccin numero 5 eccolo Faccin Bertinato pattino Faccin Pasquale prova Pasquale bravissimo Corona Bertinato c'è il fallo di Rossi Pasquale mette in mezzo la pallina si alza ancora ancora Bertinato prova Corona Festa Borsi c'è Faccin su di lui va avanti Dolce lo scambia ancora con Borsi brava Borsi a rimettere in mezzo ancora Dolce ancora Nicoletti 10 minuti e 20 alla conclusione festa e para Nicoletti sull'esterno della rete il tentativo di Bertinato gara spettacolare 10 minuti in questo momento alla conclusione Sardana 5 Sardana 5 Trissino 4 è festa nulla di fatto prova prova ancora Sardana indiavolato il Trissino sempre Pasquale prova pallina che si alta nessun problema per il pubblico ecco Rossi e stavolta ancora c'è il fallo recupera Deri gioco di sponda per Rossi preferisce ragionare 8 minuti e 20 la conclusione Orustè bravo Deri grande giocata grande spazio preferisce tenerla Borsi festa Derinandis Borsi 5 secondi Trissino che non lascia respirare i rossonieri 7 minuti e 59 secondi alla conclusione attenzione a Orustè che chiama al dai e vai Sardana Festa Festa e Faccin grande giocata di Festa si libera prova la conclusione Faccin ancora dargli fastidio Festa scambia ancora con Borsi che non è Borsi ma è De Rinaldi e la rossi perde la pallina Sardana ancora Pasquale la conclusione di Orustè palla fuori dalla specchia dalla porta Festa Borsi vede Rossi che fa passare toglie la pallina time out Trissino quando mancano 6 minuti e 44 secondi 5 minuti e 49 secondi 5 minuti e 54 secondi alla conclusione uscire di casa senza occhiali è veramente deleterio mancano 5 minuti e 54 secondi 6 minuti e 54 secondi 6 minuti e 59 secondi 6 e 59 la conclusione Sardana 5 Trissino 4 Trissino 4 Vesta insiste Sardana per cercare il più due il recupero di De Rinaldis prova niente parata ancora di Corona Sardana Sardana con Borsi De Rinaldis Dal Monte nulla da fare Festa Festa 6 minuti in questo momento e 5 secondi a giocare Festa Borsi dietro per Rossi ancora Borsi Greco Greco è dietro la porta Prova Prova dalla distanza la palla è fuori poi Borsi scambia di scambia scambia ancora con Rossi recupera Rossi Borsi 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 è una ganza De Rinaldis che si si rammarica 5 minuti e 19 secondi alla conclusione Sardana 5 utilissino 4 quando ci prova Greco palla che attraversa l'area De Rinaldis Borsi Festa Borsi tiene bene palla Sardana Dolce De Rinaldis Sudirucci Dal Monte Festa perde la pallina Morustec Sudirucci va Borsi poi Greco la girata De Rinaldis evita l'intervento di Bentinato Borsi fallo di Orustec chiede scusa Orustec a Borsi non c'è il blu non c'è il blu e invece si blu per Orustec altra occasione per andare avanti più due Sardana al 20 e 25 festa 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 contro festa contro Eddie Nicoletti festa contro Nicoletti per il 6 a 4 va a festa e ancora una volta c'è la parata power play Sardana protesta Bertinato con Luca con Luca con Luca Molli ha provato Greco ha parato Corona ora Sardana se riuscisse a piattare il più due col power play non sarebbe cosa sgradevole per i colori rossonieri ancora una ha parato ancora una volta poi ora Borsi festa Borsi ha provato al volo un po' dolce ancora Borsi festa derina dispesta ancora ci ha provato festa attenzione a Greco tre minuti e quaranta la conclusione intanto Bertinato festa eccolo che riceve Mandzukic Borsi Dolce Borsi festa Borsi festa ancora Borsi ancora Dolce De Rinaldi tre minuti e venti alla conclusione Sardana sopra cinque a quattro su Trissino Borsi prova la conclusione para il raso terra Eddie Nicoletti ma attenzione a Bertinato che trova al cinque pari al venti al ventuno e cinquantotto il capitano del trissino ha trovato il gol del cinque pari Borsi 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 e gol e gore del deri 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 gol papara deri deri gol parapara deri deri gol papara deri deri gol deri deri gol è durato dieci secondi il pari perché al ventitré zero cinque al ventidue zero cinque De Rinaldi ha segnato il gol del sei a cinque di Rinaldi Grazie a tutti Deve reggere Sardana De Rinaldi sta ancora Sardana tiene la pallina Borsi un minuto e trentacinque secondi Sardana sai trissino cinque Quando attacca Bertinato Greco Greco Ruba la pallina a festa Scivola poi Oruste Vinta la palla in mezzo Poi la perde Ultimi settanta secondi Quando attacca Oruste Paracorona Ancora Bertinato Sessanta secondi in questo momento Sardana sei Corona Dice di no a Bertinato Ancora 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 Sardana con dolce De Rinaldi Sancano quaranta secondi adesso Sardana sei trissino cinque Quando attacca ancora Greco Prova Corona Poi attenzione Perché c'è Oruste Bertinato Ventitra secondi Prova ancora Non va altrissino Che ci prova in tutti i modi Venti secondi Festa Prova il gol Di festa Che chiude il match Sette a cinque Era venuto In attacco Anche Il portiere Festa Che fantastica Fantastica Sta festa Che fantastica Fantastica Sta festa Sta festa Sta festa Sta festa Ha fatto un gol Sergio Festa Al ventiquattro E quarantaquattro Sette a cinque Era in attacco Nicoletti Era in attacco E Sardana Vince Dopo avere Rischiato Di essere recuperata In extremis Sardana Sardana vince Sette a cinque Sardana vince Sette a cinque La grande vittoria Per i rossoneri Con De Rinaldis Che festeggia Eccolo lì Sardana batte Cristino Sette a cinque La grande vittoria Allora Francesco De Rinaldis Il tuo è stato Il gol Forse decisivo Perché sul cinque A pari Il Questo risultato È durato poco più di dieci secondi Hai rimesso la freccia A una vittoria Che volevate a tutti i gol Sì Sicuramente Noi Volevamo fare Una bella partita E soprattutto Portare a casa La vittoria E non fare L'errore Di come era stata La partita contro il Correggio Io penso che Abbiamo meritato Questa partita Di vincerla Ci abbiamo messo Ci abbiamo Abbiamo dato tutto Penso Ci abbiamo creduto Fino all'ultimo Anche se Diciamo Abbiamo avuto Quel blackout Nel primo tempo Non Siamo riusciti A rialzarci bene Dico Scusa Si interrompo Ma a proposito Di blackout C'era il problema Che aveva sottolineato Il mister Proprio martedì sera C'è stata soltanto Una parentesi Dal 2 a 0 Al 2 a 3 Siete andati Poi vi siete rimessi In piedi Sì Diciamo che La cosa buona Di questa sera Che non abbiamo fatto L'errore Appunto Come riprendo La parola di Correggio Di buttarci giù E Non abbiamo recuperato Questa sera Abbiamo messo Tutta la grinta possibile E siamo riusciti A ribaltare la partita E Io penso Che se riusciamo A mantenere La giusta concentrazione Per Tutti i 50 minuti Possiamo Possiamo fare Delle grandi cose Possiamo fare Possiamo giocarci Alla pari Con tutte quante